Il Lecce continua a vincere ma sembra non bastare perché Perugia e Frosinone fanno lo stesso quindi si può ancora andare in Serie B o passeremo dai playoff? Io penso che passeremo dai playoff perché quelle due stanno andando più forti del Lecce dai, Frosinone e Perugia. Eppure questa squadra sta dimostrando di essere molto in forma? Dipende dalla continuità anche del Lecce e dalle altre due squadre che stanno avanti. Che all'inizio fanno così poi dopo si lasciano andare invece sbagliano no? Devono continuare sempre ad essere forti come sono sempre. Lei è ottimista comunque? Sì sempre. Però di solito come si dice partono sempre forti 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 e poi alla fine si lasciano andare e arriviamo sempre alla fine. Invece dovrebbero essere il contrario no? Partire normale alla fine e recuperare tutto quanto. Si potrebbero impegnare molto di più di quello che stanno facendo adesso perché comunque stanno giocando proprio svogliati possiamo dire in questo tema. Però potrebbero rendere ancora di più, potrebbero fare ancora di più. È una squadra che comunque sta inanellando vittorie di fila, suon di triplette prima quella di Miccoli poi Barraco domenica, non basta? Potrebbero dare perché ancora prima lo facevano ancora meglio sinceramente. Però adesso potrebbero fare ancora di più però da come sta avendo da ultimi partiti sembra che stiano migliorando però è ancora da vedere. Finale di campionato per il Lecce si può andare in Serie B direttamente oppure è più probabile passare dai play-off secondo lei? Secondo me ai play-off. Secondo me. Con l'ultima, non ricordo, col Perugia forse è stato che ha perso 3-0. Con quello, se l'avessimo perso sarebbe stato... No? Frosinone dovrà venire a Lecce tra qualche settimana. Sarà quella forse la gara decisiva? Sì sicuramente. Là si deciderà il tutto. È uno scontro diretto. E qual è il giocatore che in questo campionato le ha fatto la migliore impressione finora? Vabbè, a parte i Miccoli, tutti si sono fatti valere. Dai! La prima cosa che mi viene in mente è l'occasione sprecata a inizio stagione. Secondo me ancora una volta la famiglia Tesoro ha mostrato un pochettino di inesperienza nel costruire una buona squadra ma nei tempi sbagliati. E non permettendo subito a Moriero di avere le stesse possibilità che invece l'ERDA ha avuto. Perché ha trovato una squadra che ha ripreso forma dopo la partenza in salita. E ha sfruttato anche un pochettino il lavoro di Moriero. Secondo me ha peccato nel non imporsi con la società. Fossi stato in lui avrei chiesto che non oltre i primi di agosto i giochi dal punto di vista delle scelte di mercato dovevano essere fatti. Il Lecce andrà in Serie B direttamente o ci saranno gli spareggi da giocare secondo lei? Direttamente deve andare. E' ottimista quindi? Sì, sì. Perugio e Frosinone non fanno paura? No, no, non fanno paura. Lei cosa ne pensa? Uguale, uguale. Va diretto il Lecce in Serie B. Adesso c'è però questo finale di stagione. Il Lecce comunque nonostante tutti i problemi vissuti è lì che se la gioca. Qual è la sua sensazione? Io mi auguro che qualcuno faccia un passo falso perché io ci spero ancora. Se questo non accadesse bisogna restare concentrati e bisogna impegnarsi al massimo perché quest'anno i playoff sono un pochettino strani. Sono così atipici. E quello che mi preoccupa è che generalmente nei momenti importanti poi Lecce ha sbagliato il colpo. È successo a Perugia, è successo a Viareggio. Speriamo che queste settimane cambi tendenza. Chi fa più paura, Frosinone o Perugia? Personalmente a Lecce credo che non dovrebbe fare paura a nessuno, visto l'organico che abbiamo. Però visto quello che è accaduto domenica in campo con il Frosinone, a Gubbio credo che ci sia più da temere per il Frosinone perché secondo me ci sono delle volontà più alte che lo vogliono di nuovo in B. Perché domenica facciamo sanguaceto, è una cosa proprio, per esempio domenica sì abbiamo vinto, però la squadra l'ha giù debole, non si sta giù. Sì, è andata bene domenica. Sì, è asciuta buona, è una asciuta buona quando andiamo a cavano trete. Sì, è andata bene.